Il circuito internazionale Valle del Liri di Arce ha la ribalta del mondo motoristico italiano. Nel weekend è di scena l'edizione 2021 della Coppa Italia AC Karting con un bel record di partecipazione. Sono ben 174 i piloti in lizza per i titoli tricolore nell'evento in programma questo fine settimana sulla pista laziale. 8 le categorie impegnate. Il programma è davvero ricco, venerdì le prove libere. Nella mattinata di sabato le prove cronometrate di qualificazione e le pre-finali. Domenica il clou con l'assegnazione di titoli in palio in tutte le categorie. L'attesa è tanta tra organizzatori e appassionati. C'è da dire che siamo molto soddisfatti. Siamo soddisfatti perché una manifestazione a livello nazionale ufficiale come questa della C-Sport abbiamo un record di iscritti, quasi 200 piloti iscritti, dalla Sicilia alle Alpi. Quindi qui c'è tutta Italia, gli alberghi sono pieni, quindi l'economia della nostra provincia ne risente positivamente. Questa è la cosa più importante perché la ricchezza di una zona, l'economia si crea anche con queste manifestazioni. Devo ringraziare in modo particolare il delegato regionale Roberto Sardelli che ci ha dato una mano anche ad organizzare questo evento perché non è una cosa né semplice né facile.